90 mg mattina e sera per un anno per un anno va benissimo la cardiaspirina dopo pranzo questo per sempre si vede un piano andate a sinistra fare tutto il corredore zona verde secondo piano ambulatorio cardiologia diagnostica integrata quando vengi a fare il conto lo potete pure questi esami che stanno spettacca che li potete riparare tra 5 giorni tra 5 giorni e poi tra un mesetto tra un mesetto per vedere se è tutto puoi andare in farmacia adesso inizio ad andare in zona verde ehi tu infermina cos'è ehi tu infermina che sapresti dire dov'è la zona verde ehi tu infermina di blu e se le si dà di blu dietro al muretto la frolli il tu scusa Scusi, 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 scusi. Tra la lero, tra la lero, mi da una bistecca. Tra la la tu, e se visita di tu. E tu finirà, che sapresti dire dove è la zona? Eh, la zona. Eh, la carne, eh, la frolli giù. Portantino. Portantino. Non vi mettete così vicino, non vi mettete così vicino. Non vi accalcare. Com'è il tuo nome? Che mi ha la vestita di blu. Angela. Andiamo. 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 Già.